Ciao a tutti, io sono Giada e a SIAF mi occupo dell'accoglienza. SIAF Scuola Internazionale di Alta Formazione ci troviamo a Volterra. Dopo aver ricevuto una mail di informazioni generali da parte del portale Casa Perfere abbiamo verificato la validità e la solidità della proposta ricevuta. C'è stato possibile inoltre di usufruire di due mesi di utilizzo gratuito della piattaforma che ci ha permesso sostanzialmente di capire come funzionasse. In questo raso di tempo abbiamo già ricevuto diverse proposte che stiamo cercando di portare a termine. Noi lavoriamo con grandi gruppi per cui le richieste che riceviamo hanno una data di svolgimento più a lungo termine e le contrattazioni per noi richiedono più tempo. Siamo molto soddisfatti del servizio e pertanto abbiamo deciso di rinnovare dopo il periodo di prova gratuito e lo consigliamo vivamente sia per le richieste pervenute che per l'assistenza al portale. che è facile da usare ed estremamente intuitivo. Grazie, ciao a tutti!